Quest'anno abbiamo pensato di fare, spero cosa gradita a chi lo comprerà, un calendario un tra le giornate reali dei volontari insieme ai cani e ai gatti, perché comunque non sono solo passeggiate, non è solo dare cibo o fare terapia agli animali, ma è anche giocare e stare insieme a loro. E quindi abbiamo pensato di divertirci un po' facendo degli scatti un po' particolari. Sono fotografie in bianco e nero, sono stati bravissimi i nostri fotografi, che sono tutti amatoriali naturalmente, e abbiamo cercato di dare un'idea diversa, che il canile non è soltanto segregazione, non è soltanto pianti, non è soltanto essere veramente delusi dalla vita. Quando possiamo e quando riusciamo, cerchiamo di farli anche divertiti. I nostri calendari si potranno trovare ai nostri banchetti tutti i sabati, da sabato 12 a novembre, a Corso Cadù davanti a Zara, o qui in Canile, o in alcuni posti, alcuni negozi che ci ritengono. Quest'anno per noi è importante, i soldi ricavati naturalmente li useremo sempre per i cani irrigati in Canile, e quest'anno penso ci pagheremo le bollette della luce, delle lampade riscaldanti, che saranno purtroppo molto alte. Qui abbiamo messo tante lampade riscaldanti e purtroppo le bollette saranno molto alte. Qui abbiamo messo tante lampade riscaldanti, che saranno tutta l'uomo, dell'uomo, del Barco, di Kleinanine. Qui hanno messo tante lampade riscaldanti, che saranno più abbastanza dopo una nuova. Qui non sono i problemi più abbastanza delle lampade riscaldanti, che divorciano le bollette riscaldanti. Qui è messo e riuscaldanti riscaldanti, che agli a un problema di benvenimento riscaldanti. Grazie a tutti